ciao a tutti tarta amici di tarta youtube tv benvenuti in questo nuovo video io sono aldi stai questa è la settimana come sapete del lento lo sito il film sono 26 film avengers endgame ve lo consiglio non vi spoilerò niente ma vi consiglio di andarla a vedere perché veramente è bello era in tec un po lungo ma molto bello non avete ancora visto per omaggiare l'uscita di questo film ho deciso di fare questo video dedicato al film ho preso un gioco per non spoilerarvi niente sul capitolo 20 avengers hydra dash non l'ho ancora mai giocato quindi lo sto scoprendo insieme a voi questa è la copertina iniziale andiamo con gli avengers story and resta andiamo story andiamo a storia capitolo 1 capitano america detto anche camp c'è l'audio intanto perché vabbè ero io presso un kato jump vabbè ah ok il tutorial attacco x per saltare tasto qualsiasi tasto qualsiasi per saltare x per sparare c per l'abilità devo collezionare i token per essere un flash game ma la grafica non è male oh ah corre da solo prima che corre da solo se saltate è una cosa che sbaglio non ho capito più nooo non l'avevo neanche visto mannaggia a metà stavo non mi sono dimenticato i tasti ma non posso cambiare supereroe io ah forse si ah no li devi sbloccare mano mano nooo perchè? perchè? ho saltato! ah idra maledetti stava scappando uno spoiler ma si mi dico solo che nel film ci sarà c'è una citazione a idra al baso proprio ecco tutti li ho saltati oh ah quindi la chiavetta di una me l'ha lasciata quindi nooo ho saltato la chiavetta mannaggia è una corsa altrimenti non ho saltate o commentato è una corsa il cock ma la chiavetta è una corsa in questo caso è una corsa c'è una corsa questa è una corsa Iron Man, ti adoro Iron Man No, non l'avevo visto Va subito così Va subito Izz, ho provato a C Ho sbagliato tasto Ho sbagliato tasto Affa Bagno Nooo Non l'avevo visto neanche a questo Andiamo Malo Oh, non puoi metterlo Oh 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 Ecco Ecco, ho portato il microfono quindi finalmente non mi vedo neanche sentito più Perchè mi è squillato il telefono, mi è squillato i meno opportuni Allora Ciao